Covid nella settimana dal 28 febbraio al 6 marzo in provincia di Enna si è registrato un'incidenza di 640 nuovi casi su 100.000 abitanti, meno 2,79% rispetto alla settimana precedente. I ricoveri sono stati complessivamente 31, spedalizzazione all'1,16%. La nuova stazione ferroviaria, anziché essere collegata al centro di Enna bassa, sorgerà a Sacchitello. Lo ha comunicato con rammarico il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Greco. La classe politica ennese indoto ha commentato Greco affallito non essendo stata all'altezza di tutelare gli interessi di tutta la comunità. Il Teatro Garibaldi di Enna ospiterà le prove al chiuso del nuovo live show e la prova generale data zero del tour di Mario Bionti giovedì 5 maggio alle ore 21. L'artista si esibirà con la sua band, proponendo i più grandi successi di repertorio e i brani del nuovo album in uscita il 18 marzo. La raccolta differenziata nella cittadienna prevede per stasera il conferimento di carta e cartone. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista domani mattina la raccolta della carta, nel pomeriggio la raccolta di umido, plastica e cartone. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it. Per contattare la redazione scrivete a redazione chiocciolennalive.it.